L'eccellenza pugliese è sul punto di ricominciare. Il Consiglio federale ha condiviso la volontà della Lega Nazionale di Lettanti di far ripartire i campionati della stagione sportiva 2021 di eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e campionati maschili e femminili di serie C e C1 di calcio a 5. Il via libera definitivo, quindi anche quello per gli allenamenti collettivi, subordinato alla prioritaria tutela della salute, sarà dato dal presidente federale Gravina d'intesa con i vice Calcagno e Dalpino una volta recepite le indicazioni specifiche della LND sui format a valle della riunione del Consiglio direttivo di Lega del prossimo 10 marzo. La FIGC ha inoltre accolto le istanze della LND in ordine ad un'ampia deroga al format dei campionati dilettantistici a partire dal blocco delle retrocessioni ma con la salvaguardia del merito sportivo per le promozioni ai campionati nazionali di riferimento. Per quanto riguarda gli impiagni di carattere economico da destinare ai club che riprenderanno le attività, la FIGC ha fatto sapere che attenderà le misure contenute nell'imminente decreto sostegno predisposto dal governo. Se per il campionato di eccellenza la notizia è stata accolta con favore dalle società, lo stesso non può dirsi per il calcio a 5, alle prese con uno sport al chiuso e con la problematica legata ai palazzetti dello sport adibidi come hub vaccinali. Il 10 marzo quindi si prospetta una data di importanza capitale per tutto il mondo calcistico dilettantistico.